Sono tanti i fronti aperti in queste settimane quando si parla di giovani, tra le priorità certamente la sicurezza sanitaria ma anche le opportunità legate alla transizione ecologica e digitale grazie al Next Generation EU dell'Europa. Temi affrontati dal Ministro delle Politiche Giovanili, Fabiana Dadone, che ha fatto tappa all'area archeologica di Pestum. Città meravigliosa e credo che sia un posto ottimo per riuscire a parlare dell'occasione dei giovani del futuro che si può riuscire ad ottenere proprio grazie alle risorse del Next Generation. Penso che discuterne con i ragazzi in questa sede sia un'occasione imperdibile. Il compito di noi adulti è riuscire anche a informarli rispetto a tutte le novità che il PNRR riuscirà a portare a loro in termini di vantaggio sia sulla formazione ma anche in termini di transizione digitale ed ecologica che sono un po' la chiave di volta per il paese. La visita del Ministro è stata anche l'occasione per aprire il percorso accessibile ai visabili nel parco archeologico di Pestum, un progetto avviato a suo tempo dall'ex direttore Gabriel Zucktrigel che ha presenziato all'iniziativa. Un dialogo tra il Ministro e studenti eccellenti provenienti da diverse parti del mondo per declinare il futuro della transizione ecologica e digitale. Dadone ha anche fatto un riferimento alla campagna vaccinale per i più giovani. Non è una questione di obbligatorietà ma una questione di sensibilizzare e spingere a capire che più ci vacciniamo più riusciamo a raggiungere l'immunità che permetta a tutte le fasce di popolazione e soprattutto le più anziane di riuscire ad essere al sicuro. Quindi è un po' una chiamata alla responsabilità da parte di tutti ma devo dire che i ragazzi finora hanno reagito molto positivamente e hanno partecipato tanto.